Oggi domenica 22 luglio 2018 ci troviamo a Luccoli davanti al santuario di San Giovanni Battista. Questo è il giardino della memoria del sisma del 6 abrile 2009. Come potete vedere un senso di pace incredibile si trova. Questo sta scritto centenario dell'apparizione della Vergine di Fatima. Grazie a tutti. Che vi posso dire? In questa località così all'alto è meraviglioso. Il senso di pace che si sente, no? Della Stalucoli. Alberi donati dal vangal gruppo Paribas. La sopra c'è una chiesetta. Il monastero purtroppo sta chiuso. De San Giovanni Battista. Guardate questa quercia secolare, sicuramente.